Domani si ufficializza questo cambio di guardia qui in capineria di Porto a Mazzara del Vallo. Cosa lascia al prossimo capitano? Sì, gli lascio una capineria prima di tutto efficiente, con personale molto motivato e disponibile. Gli lascio sicuramente un testimone abbastanza pesante, già che si tratta di gestire una serie di problematiche rilevanti. Prima fra tutte quella delle gravi carenze infrastrutturali del Porto. Mi riferisco alla mancanza di una recinzione, alle ormai annose carenze della pubblica illuminazione, come della necessità di immediati interventi di dragaggio dei fondali. Attualmente i fondali non sono sufficienti per garantire la piena operatività del Porto e il corretto esercizio delle attività imprenditoriali. Noi siamo stati vicini in questi anni agli imprenditori, agli armatori, ai cantieri navali. Abbiamo rincorso, abbiamo lavorato nell'emergenza, abbiamo emesso continui provvedimenti tampone, e abbiamo autorizzato attività in via eccezionale, sempre cercando di contemperare le esigenze del lavoro con quelle della sicurezza. Per quanto nelle nostre competenze, abbiamo appaltato i lavori di rimozione di 5 relitti lungo il canale, ridando operatività a 200 metri lineari di banchina. Quindi posso in definitiva dirmi soddisfatto di quello che è stato fatto. Ho accompagnato il comandante Giovetti, ci siamo recati dal direttore marittimo di Palermo, il comandante Martinez, che ci ha assicurato che intende riunire gli operatori portuali presso quella sede e attivare dei canali con i vertici regionali al fine di dare soluzione alle problematiche portuali. Infatti il dragaggio al porto, la problematica del dragaggio al porto è un problema tutto politico, giusto regionale? Certamente non rientra tra le competenze di una capitaneria di porto. Una capitaneria di porto ha compiti di sicurezza e di polizia. Il gestire problematiche territoriali compete alla regione siciliana e talora all'ente comunale. Quindi anche la movimentazione delle acque di cui abbiamo parlato poco fa? Assolutamente sì. Esistono delle normative di settore che chiaramente vanno rispettate da tutti. Mi rivolgo in questo caso anche a titolari di attività imprenditoriali che comunque hanno la mia vicinanza, la mia solidarietà, ma devono comunque attenersi nel rispetto della legalità alle normative prescritte. Lei andrà a ricoprire un importante ruolo presso la capitaneria di Siracusa. Qual è il ricordo di Manzara del Nuovo in questi anni? Lascio molti amici, lascio delle bellissime esperienze di vita, lascio tantissime cose fatte, soddisfazioni, ma lascio anche il rammarico di non essere riuscito, proprio per quello che dicevo prima, non rientrando nelle mie competenze, di lasciare agli operatori un porto realmente operativo ed efficiente.